Bentornati al nostro appuntamento qui su Rete8. Oggi torneremo a parlare del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza. Come sapete la legge di conversione ha previsto delle modifiche a quella che era la normativa iniziale del decreto, quindi di conseguenza l'istituto proprio il 5 luglio con la circolare 100 ha dato quelle che sono le indicazioni su quelli che sono le principali nominità. Vediamo nel nostro slide i contenuti riassuntivi. Innanzitutto vedremo poi un'apposita puntata, quelli che sono gli requisiti di accesso per accedere alla pensione di cittadinanza dei nuclei con componenti disabili. Ulteriore aspetto che abbiamo esaminato in questa circolare, vediamo nella prossima slide, è lo stato relativo a soggetti che hanno avuto misure cautelari o condannati in via definitiva. Nei 10 anni precedenti alla richiesta. Questi soggetti non possono presentare domanda di beneficio e vengono neutralizzati ai fini dell'individuazione della scala di equivalenza dal nucleo familiare in cui si trovano. Voi sapete che per avere l'importo del reddito in pagamento più è grande il nucleo, maggiore è l'importo in pagamento, questi soggetti non vengono considerati in questa scala di equivalenza. Ulteriore novità le abbiamo su quella che è la presentazione dell'ISEE, l'ISEE minori e poi novità sul patrimonio immobiliare. Innanzitutto, vediamo nella prossima slide, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, quindi i cittadini extraeuropei, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza in cui vengono dichiarati i redditi e il patrimonio, nonché la composizione del nucleo familiare. Come voi potete ben immaginare, se vi sono membri del nucleo familiare nel paese di appartenenza, non sono verificabili da parte delle autorità nazionali, per cui viene richiesta questa certificazione che deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consulare italiana in loco, quindi una richiesta particolare per i soggetti extracomunitari. Vediamo ulteriormente un aspetto interessante un po' per tutti i soggetti è relativo a quello dei disoccupati a seguito di dimissioni volontarie. In un primo tempo i nuclei in cui era presente uno di questi soggetti non potevano presentare domanda e non avevano diritto al reddito di cittadinanza. Con la modifica possono presentare la domanda ai nuclei al cui interno vi è un soggetto con dimissioni volontarie, ma il soggetto verrà escluso sempre ai fini della scala di equivalenza, quindi non è più una preclusione a tutto il nucleo, ma solo una differente modalità di calcolo. Spero di aver dato sufficienti informazioni, il reddito di cittadinanza è molto interessante e molti ci contattano per queste novità, torneremo più specificamente su alcuni di questi argomenti. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.